Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo e oggi proviamo Struggling ragazzi e ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco Di che cosa si tratta? Gente, questo gioco è assurdo L'ho visto per la prima volta durante uno degli eventi di Microsoft per Xbox e porca miseria quanto sono rimasto sorpreso Sembra essere un platform che utilizza la fisica in maniera molto creativa in cui tu devi controllare le braccia di un abominio assurdo che si muove all'interno di un mondo fatto di quello che vedete e quindi è una follia grottesca però sembra essere realizzato veramente con cura ragazzi quindi non so bene cosa pensare sembra ricche e morti mischiato con Futurama mischiato con Monty Python cioè, boh, non so bene come descriverlo comunque, andiamola a provare nuova partita, abbiamo la campagna ragazzi un giocatore è vero che si può giocare anche in cop tanto tempo fa quando il mondo era in tumulto e la civiltà faticava a prevalere sul male dalla plebe emersero degli eroi ok questi campioni che presentavano anomalie distintive aprirono la strada verso l'età dell'oro dell'umanità anomalie distintive purtroppo anche in questo periodo fiorente invidia e avvidità prosperavano un falso profeta salì al potere indusse la popolazione a rivoltarsi fomentando l'odio contro gli eroi del passato che vennero esiliati a frotte mentre gli esiliati si avviavano a svanire dalla storia il più saggio tra essi preannunciò l'arrivo di due campioni fratelli che sarebbero insorti contro l'arroganza di coloro che si considerano dei il più grosso dei due Ettore si sarebbe erto a protettore dei deboli avrebbe punito i tiranni il secondo Achille ma perché vabbè sarebbe stato un genio senza pari destinato a portare conoscenza e saggezza alle masse insieme questi araldi dei reietti avrebbero intrapreso un pellegrinaggio lo sa un po' alto il volume un viaggio consacrato alla ricerca degli dei degli esiliati che avrebbe posto fine alle loro tribolazioni in cambio avrebbero ottenuto il potere di creare una nuova società in cui ogni essere vivente potesse vivere al riparo da sofferenze e conflitti purtroppo la profezia non si avverrò mai i reietti tramandarono i loro nomi per generazioni bisbigliandoli con il massimo rispetto fortunatamente nessuno di loro visse abbastanza da affrontare alla delusione quando i cosiddetti campioni nacquero molti secoli dopo non si avrei non si avrei ma cosa ecco ok lr per muovere queste due braccia a mio dio cosa da feri con la mano essere disposto il tuo corpo ripilante usando cosa mi devo aggrappare oltretutto o mio dio io sto provando a ok ok e queste sono tutte azioni che lo puoi seguire non preoccuparti alla scienza del usa quanto te da questo proprio no 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 è solo che non è strano ok tascinati dolorosamente verso il cervello ok attiva le cellule auto originate il bacio sinistro con questo usa y per manipolare il dna da rettile del braccio destro ok usa b per fare spin metodi sui pensieri più profondi la saggezza di achille cosa cosa fa mette fin questa introspezione della conoscenza di ilio farò ogni volta che vuoi va bene oh mio dio ma che è ok io non riesco mai a riconoscere il braccio sinistro al destro ok ok dai oh mio dio fa troppo senso knight per secchioni dai perché ok grazie ok aspetta dai che ci sto arrivando eh complimenti dave via allora aspetta allora aspetta mi sa tanto che devo andare lassù dai è tremendo da controllare vabbè ok ho messo il cappelletto ok checkpoint d'accordo è inquietantissimo ragazzi aspetta aspetta vola no ok ok questi sono i checkpoint benissimo No No vai su Ok Dai Con fatica Oh mio dio Aspetta Vai su Quello non mi ispira tanta fiducia Aspetta Probabilmente devo fare qualcosa tipo Vai Ti prego Vai Oddio No Oh mio dio Mi sono ripreso un si sa come Aspetta Ok Forse ci sono Sono arrivato Ok Eda Oh mio dio No 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 Via 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 di qua Oh cavolo No Ok quindi ricresco No 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 Au Mio dio Aiuto Vai 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 Veloce Rotola Vai 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 Ok Checkpoint Mio dio Ragazzi Dipartimento dei rimpianti A notte fonda Ok Quindi adesso si va più a livelli Tipo Come funziona Dai Forza Coraggio Vai Su Yeah 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 Come Cosa Ah Ah Vabbè No I versi Ok Magari Che devo fare Che devo fare Oh mio dio Ragazzi Aspetta Forse No Ah Bene Era quello Ce l'ho fatta Ti prego Ah Mio dio Che Che cosa assurda È rivoltante E divertentissimo Allo stesso tempo Cosa Cosa No No C'è un po' di morte Va bene Ragazzi Allora Io mi potrei Mi potrei anche fermare qua Perché sostanzialmente Il gioco Il concetto Ve l'ho mostrato Però Vi voglio salutare Con Con questo Mi voglio salutare Io non so Veramente cosa pensare Cioè Assurdo Assurdo Veramente Io Durante la presentazione Mi ero chiesto Ma che cos'è questa cosa Sembra anche fatto benissimo E in effetti lo è È un casino Si controlla in maniera Cioè È difficile Prenderci la mano Però è voluta Questa Sensazione di alienazione Secondo me E devo dire che È riuscita molto bene Davvero Quindi Ragazzi Eh Io direi che Possiamo chiudere qui Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate Sono curioso di sapere La vostra opinione Sono veramente curioso Di vedere che cosa succederà Nella sezione commenti Perché questo È assurdo Quindi Gente È tutto per oggi Grazie mille di aver visto questo video E noi ci vediamo Alla prossima puntata della serie Proviamolo Con magari un gioco Che sia Meno Assolutamente fuori di testa Di questo Però Forse anche meno divertente No Va bene Questo è tutto Grazie mille a tutti E come sempre ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Lasciate un bel like A questo video Se vi è piaciuto E qui sotto in descrizione Trovate come sempre Tutti i link ai miei social Tutti i link per supportare Il canale Il link alla playlist Con tutti quanti i video Della serie Proviamole Anche il link Per acquistarlo Il gioco Se lo acquistate tramite questo link Aiutate Supportate moltissimo Il canale D'accordo ragazzi A presto Grazie a tutti Grazie a tutti